pasqua 2022 una pasqua un po particolare ne abbiamo passate due sempre particolari ma eravamo in periodo covid adesso purtroppo oltre al periodo covid che non è che ci stia tanto abbandonando bisogna dire purtroppo vivremo una pasqua potremmo dirlo di guerra si è proprio così i tempi che stiamo attraversando non sono tempi facili anzi sono impegnativi e tristi per diversi motivi quelli che sono stati ricordati la pandemia prima e ora la guerra chiaramente il messaggio pasquale è un messaggio che va oltre i confini del tempo questo è uno dei significati della pasqua ed è un messaggio di speranza di superamento di tutte le situazioni di divisione di fatica di lutto e di morte e quindi il mio pensiero e anche il mio augurio in questa pasqua 2022 è che tutti riusciamo a fissare lo sguardo e il cuore su questo messaggio di speranza e a questo messaggio di speranza riusciamo ad aggrappare la nostra vita intendo dire questo sia come consolazione come rassicurazione del nostro cuore ma anche come orientamento concreto del nostro pensiero e delle nostre azioni il linguaggio della fede a proposito della risurrezione di cristo sottolinea questo aspetto molto interessante cristo risorto non muore più la morte non ha più potere su di lui questo indica la novità assoluta della risurrezione di cristo diversa ad esempio dalle altre risurrezioni che cristo stesso ha operato perché ad esempio lazzaro è stato risuscitato da gesù ma poi è nuovamente morto noi di gesù diciamo che risorto da morte non muore più questa è la novità che porta nella nostra vita ecco perché noi interpretiamo la pasqua recuperando anche segni antichissimi ad esempio appartenenti alla tradizione ebraica come assoluta novità e assoluto compimento questo messaggio tipicamente cristiano a mio parere è il messaggio di cui ora ha bisogno il mondo detto anche magari in maniera un po più laica io intendo dire che noi non abbiamo bisogno soltanto di superare queste difficoltà per tornare alla vita di prima noi abbiamo bisogno di queste di superare queste difficoltà per vivere in maniera rinnovata cioè più autentica questo è un augurio tipicamente religioso cristiano di fede ma credo che sia un messaggio importante anche per il mondo noi non dobbiamo desiderare un equilibrio che alla fine ha portato a questi scompensi noi dobbiamo desiderare un nuovo assetto e per un nuovo assetto dobbiamo impegnarci il nuovo assetto da dove nasce io direi fondamentalmente da due direzioni primo recuperare il gusto e la gioia della verità sulla vita dell'uomo secondo recuperare e incrementare lo slancio della solidarietà a questo punto direi proprio l'augurio per questa giornata di pasqua per tutti i residenti della nostra diocese si lo faccio davvero tanto volentieri l'augurio naturalmente è per tutti è l'augurio di speranza di gioia di consolazione e anche di di serenità in questo giorno in questo tempo soprattutto nelle famiglie nel nei luoghi del nostro incontro che sono il lavoro l'amicizia le relazioni il divertimento la vita sociale e la vita civile se c'è una preferenza che voglio esprimere rivolgendo il mio augurio è alle persone che sono più fragili a quelle che soffrono a quelle che sono sole diciamo a quelle che apparentemente avrebbero meno motivi per festeggiare vorrei che la gioia della pasqua riscaldasse e facesse riposare soprattutto il loro cuore